giuseppe buongiorno questo mi soggetti ci sta luce per farvi vedere tutti sono tutti gialli portato di occhio rosso giuseppe grazie tu consigli io sono di in puglia se qualcuno interessato o contattare giuseppe che mi contatta me qui sono di tutti gialli intensi e bina sta finita di fare la muta ma per finire il bagnetto acqua bagnata adesso faccio vedere gli altri qui c'erano altri già l'ho più nato sto facendo il bagnetto un pochiavoli sta in mezzo pure seconda gabbia è questa adesso faccio vedere la terza gabbia ecco ragazzi sono altri bianco questo bianco un papà novelli c'è anche un altro papà questo qua il primo già nominato un ottimo c'è tutto da giuseppe albergo giuseppe grazie ancora grazie a tutti i consigli ciao giuseppe ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti